Sì, me ne è Feva Maduro, mi sta orgoglioso che vi faccio in un'altra banda di un microfono. Grazie, Joyce. Come si riuscita il giorno di avere? Lo che mi piace di un congresso qui è che, per fin, mi viene un cambio di mentalità. Lo sai, quando propone il basso tempo, c'è un cambiamento di mindset. Lo che mi piace di avere un'èfasi sui di una scuola della nostra comunità. Per esempio, ha riuscita un cambiamento di amper, prensa un cambiamento di amper. In quel momento c'è un lavoro di i Corati Narain, ci sono un'èfasi sui di un'èfasi di tutto che ci sono più cambiato di delle scuos, Non è scolmare. Non è scolmare. Perché, quando si avessi, bisognava andare in un'istituzione o un'università dell'ambiente. Non è scolmare. 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 Dopo che i nostri problemi si rinforzano. Che mi abbia è scolmare. Adesso, lo che mi ha detto è che il lavoro, il lavoro, il lavoro e il lavoro di una famiglia. La influencia è arrivata molto. E questo è stato molto bello. Però, finalmente, c'è un cambio. Tu hai bisogno di avere attenzione. C'è tineri, c'è tineri, c'è tineri, c'è tineri, c'è tineri, c'è tineri. Sì, ma qui nel Olanda non è vero, il padre non è in situazione. Noi, non ci sono cambiato il mindset, non ci sono professionale. Ma qui ci sono un consiglio, ma più di più di televisioni, che ci sono lavorati a lavorare, che ci sono in situazione, il padre non è in situazione. Ma qui ci sono i passi con il padre, i nuovi dei dei, per portare il padre di una città, o di un altro paese. Ma qui ci sono i passi con la tecnologia moderna, via Amazon, mail... ma a loro stagione, lui è stato un'evolta per il suo padre e il suo padre non si è mai subito ma non è mai riuscita, non si è mai nascita la mia madre, non si è mai subito Quindi iniziamo un'evolta per aiutare e non si è mai subito e lui non si è mai subito, non si è mai subito un'evolta per aiutare fuori di piccino all'inizio della mia madre c'è un sacco? E' un sacco? Non è un sacco. C'è un sacco? Non è un sacco? Non è un sacco? Non è un sacco? Non è utile. Non è cazzo il nero, non è accanto il papà. Voi troppo? Non è accanto il modo. che vogliono venire maduro, si può avere un contatto con lui, ma il partner della mamma, non può avere un contatto con lui, con lui e lui. Sì. In questo caso, quando aveva un'individuo, abbiamo un modello che dice che ci sono un modello che dice che ci si tratta di Dnc, ma è che in quel momento c'è un giù, c'è un giù, c'è un vader, ma un po' che c'è un biologico. Un biologico vader ha un papel, di molto subito, cosa che succede. Passi come va a portare la sua famiglia e la sua gerencia. E' lo più importante. E' un problema di molto subito. Una famiglia che si tratta da vita a portare in un cammino, stimola e contare. E' un cosmo che conoscevamo come papi, e abbiamo visto la nostra città papi. Noi siamo arrivati alla conclusione che nessuna situazione è così. E' un problema che si è un padre o che si è in contatto con un etato biologico. E' un problema che non si sente come un'homber, ma anche con un altro. E' un problema che ci aiuta molto. E' un problema che ci aiuta molto. E' un problema che ci sia molto importante. Ma ci sono state, e mi chiedo che il bascate è una situazione ideal per i nostri giovani di l'italiano. solo per i nostri giovani. Grazie a tutti i nostri giovani.